Hai sempre desiderato avere il controllo del tuo show preferito? Bene, ora puoi! Grazie a Scegli il tuo finale! Venerdì 27 febbraio ti aspettano due nuovi episodi uno dei Thunderman e uno dei fantasmi di casa Hathaway di cui tu puoi scegliere il finale! Vai su nicktv.it guarda l'anteprima e vota il finale che vuoi vedere in tv! Scegli il tuo finale! Venerdì 27 febbraio alle 19.30 su Nickelodeon Grazie a tutti!